Quando uno ti dice quello che non va bene, quello che fai di sbagliato e tira fuori tutto un lungo elenco, la cosa da fare in quel momento è ascoltare senza permettere che questo ci faccia male, senza pensare che sia una cosa personale. Bisogna vederlo come un processo che l'altra persona sta attraversando e ascoltando capisci dove sta il dolore, che cosa li mette a disagio. Magari è una cosa che non hanno capito bene, hanno malinterpretato rispetto a quello che hai detto prima. Ma se ci mettiamo immediatamente sulla difensiva o se ci sentiamo attaccati personalmente, rimaniamo incastrati nel nostro dolore e allora non potrà mai svilupparsi un processo di guarigione. Quindi ascoltando, senza stare sulle difensive, succedono due cose. L'altra persona ha la possibilità di esprimere tutto quello che vuole esprimere e noi ci alleniamo a non prendere le cose a livello personale. L'altra persona non sta facendo altro che esprimere la propria rabbia, le proprie insicurezze e via dicendo. È capitato solo che voi foste lì al posto della persona a cui appunto loro si rivolgevano, stavano facendo quell'esercizio nei vostri confronti. Nulla a che vedere con voi personalmente. Però voi potete far parte del processo di guarigione. La vostra guarigione è la guarigione dell'altra persona. Ed è questo che fa il processo appunto delle ombre, quello di vedere l'altra persona come fosse uno specchio di voi stessi. Come spirito siamo perfetti. Come esseri umani siamo sempre nella polarità dello yin e yang continuamente. Guardando il simbolo dello yin e yang vedete che nel buio, nell'oscurità c'è la luce. E nella luce c'è un punto di oscurità. E questo è ciò che siamo, questo rappresenta noi. Quando lo yin e lo yang si abbracciano l'un l'altro, allora diventa il Tao. Il Tao è uno. E questo è quello che voleva dire Deepak Chopra quando ha detto quando abbracciate la luce e l'ombra, allora sì davvero abbiamo l'illuminazione. Quando uno smette di combattere le proprie ombre, allora c'è di nuovo l'unità. Grazie a tutti.